guarigini sono in italia cosa c'è più bello di essere lì dove sei cresciuta guarigini cioè mi mancano tanto le mie bestie volvo e tuff non vedo l'ora guarda di abbracciarli sai sono tornata più forte di prima tanti commenti che scrivono hai abbandonato il camion hai fatto video solo per avere tanti line non è vero guarigini quando io sono partita a fare video con camion era capitata la pandemia come si chiama coronavirus come si chiama lì ho cominciato a fare video perché io non facevo né tiktok né niente è cominciato tutto così per scherzo per gioco però sono tornata più forte di prima un mese in albania vita relax vita bella però mi sentivo moscia guarigini moscia perché uno senza un obiettivo di vita che vita è che vita è e oggi vedevo tanti camion no e dicevo non vedo l'ora che abbracciare le mie bestioni non vedevo l'ora guarda sai guarigini è bello tornare nel posto dove siamo cresciuti però è dura anche abbandonare dove sei nata per tanti emigranti questo momento è difficile anche se siamo giudicati però sai nessuno vuole abbandonare la sua terra c'è la terra madre si chiama anche se dove siamo ci troviamo benissimo però quando siamo in albania ci manca l'italia quando siamo in italia ci manca l'albania siamo strani no credo tutte le persone sono così se vivono un po a lungo in un posto poi lì comincia a mancare no però guarigini siete pronti a vedere bianca in azione siete pronti a vedere bianca con i suoi bestioni perché tanti commenti che scrivono hai abbandonato il lavoro non lavori più quella modella hai usato il cambio per avere la fama non è vero guarigini io non uso mai le mie bestioni e chi li usa per avere qualche like è come usare una donna o un uomo per la sua bellezza e per i suoi soldi non è bello e io i miei camion ce l'ho qua e li avrò sempre qua e qua e chi fa camionista e lo sa benissimo chi è in pensione ora chi è senza le sue bestioni senza il suo bestione lo sa benissimo che quel lavoro li manca poi chi ama a viaggiare guarigini viaggi gratis se comincio a parlare io per il camion guarda non smetto più meglio mi metto alla guida che ho altri 695 chilometri da fare devo andare toscana pisa e mi aspetto anche il lavoro mi sa stasera mi sa che ricomincio a lavorare senza riposo meno male che qua non c'è il disco e non c'è la carta tachigrafa se no io stasera non lavoravo guarigini un grande bacio un grande abbraccio e datemi il benvenuto in l'italia guarigini su commentate ditemi o ditemi commentate benvenuto bianca un grande abbraccio